Ecco qua il pizzo scalino, da questo punto si vede benissimo il vernina, il pizzo palù, appena imbiancati, tutto il panorama sul ghiacciaio, bello diciamo anche, spettacolare il panorama che si vede, poi qua, ecco questa punta qui, che offre il panorama sulle orobie, bellissimo, meritevole anche arrivare fin qui, gli amici sono contenti di essere giunti fin qui, si contentano, accontentarsi vuol dire già tanto e capire che tanto la meta è sempre là, è là.